Come prima L'amore visto sotto vari punti di vista raccontato da vecchie e nuove generazioni arriva a Shopping in Love in onda dal 14 gennaio al 14 febbraio su Telenuova e TPN vi racconteremo la storia di Maria e Michele un amore in loro che dura da oltre 60 anni sono andati con tenacia contro la volontà dei genitori di lei che questa unione proprio non la volevano ed eccoli insieme sempre più innamorati C'è stata anche la classica fuitina, che cosa avete fatto? L'ultima mi ha scappato, mi ha scappato perché era una vita che non si poteva più avanti Allora tutti e due cammino e cose, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima altrimenti venivano a fare delle cose malamente E così siete scappati dove? E così siete scappati E io mi ha fatto la decisione, che dice? Mi ha lasciato, mi ha lasciato, mi ha lasciato, mi ha lasciato E io dicevo, no, mi ha lasciato, si può lasciato Nessuno ha detto, tu gli direi, ma forza, si dice, basta, lasciamoci Vi racconteremo anche di un'altra coppia che ha fatto prevalere l'amore su tutto Antonio e Dino sono insieme da 15 anni Io con Dino per me è la mia famiglia Io reputo il concetto famiglia laddove ci possa essere amore ma soprattutto calore della casa quindi non c'è una tecnologia specifica per reputare una famiglia la famiglia si può essere due persone dello stesso sesso due persone non dello stesso sesso ma dove vige l'amore Vi piacerebbe sposarvi? Sì, ci piacerebbe sposarci però non almeno io ma anche lui non siamo tanto d'accordo per l'adozione dei bambini perché comunque pensiamo entrambi che l'adozione dei bambini va fatta con un uomo e una donna perché devono crescere con una forma cioè proprio con un padre con una figura proprio paterna con una figura materna a sposarci sì ci vedremo tanto però non è possibile a meno che lì al governo farebbero qualche stravolgimento ma non penso Ma Shopping in Love riserva anche tante altre sorprese vi mostreremo offerte ed idee per il vostro San Valentino e chi vuole può inviare un video messaggio d'amore al 349 46 35 019 Shopping in Love andrà in onda su Tele Nuova il martedì dopo il Tg delle 14 il mercoledì dopo il Tg delle 22.30 e la domenica alle 15.15 circa e su TPN il venerdì alle 14 ed il sabato alle 22.30 Primo appuntamento domani dopo il Tg delle 14 ti c'è perché vabbè 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 vabbè